La Giulia GTA del 1965 era una coupé firmata da Bertone e prodotta da Autodelta sul pianale della Giulia Berlina accorciato. Giulia GTA e la GTA M hanno collezionato 12 vittorie nel campionato turismo tra il 1966 e il 1971. Per 55 lunghi anni gli alfisti e gli appassionati di auto del mondo hanno atteso il suo ritorno. Ma non solo loro, anche tutte le persone che lavorano per Alfa Romeo l'hanno sempre sognato. Ci vuole tanta passione e tanto tempo per creare una vettura così speciale e sapevamo di doverlo fare bene. Nel 2020 Alfa Romeo compie 110 anni, quindi abbiamo deciso che fosse il momento giusto per rendere omaggio al marchio che noi tutti amiamo e che voi tutti amate. Ed è questo il motivo per cui oggi stiamo riportando in vita una delle più iconiche, se non la più iconica Alfa Romeo della storia. Alfisti, signore e signori, la Giulia GTA è tornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nuova GTA è basata sulla Giulia Quadrifoglio, la nostra berlina top di gamma, ed applica gli stessi concetti e principi tecnici usati per sviluppare la GTA originale. La GTA famosa nel mondo, diventata una vera e propria icona Alfa Romeo. Siamo partiti dalla riduzione dei pesi, abbiamo aggiunto potenza e abbiamo ulteriormente migliorato e raffinato l'aerodinamica per ottenere una dinamica di guida al di là di ogni confronto. Questa è l'essenza, o meglio ancora l'anima, della Gran Turismo alleggerita. Siamo tornati alle nostre radici e perciò, esattamente come la GTA del 1965, la nuova Giulia GTA sarà disponibile in due versioni, una più estrema, ma omologata per l'uso su strada, dotata di sedili monoscocca con cinture di sicurezza, 6 punti e rollbar, la GTA M, dove M sta per modificata che state vedendo oggi. E la GTA pensata perché voi possiate portare a scuola i vostri figli, gli alfisti del futuro. Ha quattro posti, non ha il rollbar, ha un'ala posteriore ridotta e uno splitter più corto. Giulia GTA è un'autentica supercar per tutti i giorni e offre la migliore esperienza di guida Alfa Romeo di sempre. Su Giulia GTA e GTA M il guidatore è al centro, più di quanto non lo sia mai stato. Per essere fedeli alla ricetta originale la potenza non poteva essere l'unico ingrediente. Per la performance di un'auto sportiva quello che conta veramente è il rapporto peso-potenza ed è su questo aspetto che le nostre GTA sono veramente straordinarie. Ci sono solo due persone nel nostro team così veloci da non farsi impressionare da tutto questo, che sono i nostri piloti del team di Formula 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Chi meglio di Antonio e Kimi potrebbe descrivervi oggi la nuova GTA? To get a first impression, I look cars in the face. The front end of the GTA looks stunning and very fast with its carbon fiber fascia and aerodynamic devices. It seems to be melted with the road and this is not just an impression, it's reality. Front and rear tracks have been widened, making room for the single nut wheels available for the first time on the sedan. Through the wheelspokes you can see the very effective carbon-keramic braking system. The side displays the Alfa Romeo signatures. The Quadri Folio logo and the Autodelta ones besides the airwind and the Italian flag painted on the mirror caps. Aerodynamic improvements are in details such as the side skirts. And the high performance aerowing of the GTM designed by Sauber Engineering. Looking at the car's tail you get excited by the new carbon fiber rear diffuser integrated by the titanium exhaust system. Ma diamo un'occhiata all'interno rivestiti in Alcantara. Quando sei all'interno dell'abitacolo, ogni cosa è esattamente dove dovrebbe essere, facile da raggiungere in ogni condizione di guida. Quando ti cale all'interno del sedile monoscocca in carbonio e ti allacci le cinture a 6 punti, capisci immediatamente quando tutto è sviluppato con la filosofia del made for driving. Sulla GTA modificata, l'attenzione maliacale è sulla leggerezza. Nuovi materiali e soluzioni tecnologiche sono stati introdotti per ottimizzare il peso e la sicurezza. Così come i vetri posteriori laterali ed il 1-8 realizzato in Lexan, materiale super leggero e resistente agli urti, caratteristico delle auto da corsa, e il road bar posteriore specifico. Tutti questi contenuti derivano dalla pista, aggiungendo quel sapore racing ma allo stesso tempo migliorando la leggerezza di oltre 100 kg rispetto alla quadrifoglio. Ma tutto questo cosa significa? Leggerezza, sinonimo di agilità, 540 cavalli sempre pronti sotto il tuo piede destro. E la storica ricetta di ogni Alfa Romeo da corsa è non. Oggi su GTA si traduce in uno straordinario rapporto peso-potenza di 2,82, il migliore della sua categoria. Con la nuova GTA riportiamo invito un'icona e torniamo alle nostre radici di eleganza e sportività, ma anche di unicità. Produrremo GTA e GTA M in una serie limitata di solo 500 unità totali, tutte numerate e certificate. Giulia GTA e GTA M seguiranno le orme della GTA del 1965 ed entreranno nell'élite delle Alfa Romeo classiche di maggior valore per i collezionisti. Da oggi è possibile prenotarla. Comprare una GTA vuol dire vivere un'esperienza unica tutta Alfa Romeo. Ogni cliente verrà coinvolto in un processo di acquisto dedicato e sarà personalmente assistito dall'ordine alla consegna. Con ogni GTA verrà fornito un experience pack dedicato che comprende una tuta Racing Alpinestars personalizzata, un casco aperto bel con livrea GTA e un esclusivo telo auto Goodwool per proteggere la vostra GTA quando è parcheggiata nel vostro garage. Non solo, ai clienti GTA verrà offerto un corso di guida dedicato presso l'Accademia di Guida Alfa Romeo. Alla festa per i 110 anni di Alfa Romeo Giulia GTA è l'ospite d'onore, ma i festeggiamenti non finiscono qui. Alfa Romeo ha in programma molto di più grazie alla vostra passione che guida i nostri sogni.